pronto salve bentornati al dodicesimo video era un po che non smanettavo ma c'ho stato male c'ho avuto esami è uscito roma insomma un sacco delle cose comunque annuncio che a breve farò anche una campagna dedicata a roma o dovrei dire alla beta di roma ma di questo parleremo un'altra volta che proprio non ci voglio dunque per prima cosa seguire subito i consigli che mi hanno consigliato eliminando un po' di truppe in eccesso per risparmiare qui direi che vanno bene anche qui qui guardate togliere questo qua e stia a due mani no speriamo che li congera che non me li sacrifica cazzo vediamo un po' mi sa che ho finito il turno guardate quante belle pecorelle ah no so carry beh allora nella capitale saranno un botto visto che commercio un fischio e infatti e va bene direi che posso un google turno non mi ricordo se ho mosso l'emissario no ci avevo fatto accordi con questi ma accorto ehm ah ok già ce l'ho i diritti commerciali ma andiamo c'è in africa quant'anni c'è eh? il viaggio attendevano via dunque il mio piano come mi hanno giusto con giustamente consigliato è quello di bloccare questi beceri sulle due isole un po' più giù un po' più su un po' più ignoro oddio ok mo sono bloccati sulle isole quindi potrei andarmi a conquistare il castello tranquillamente prima voglio finire di costruire qualcosa però non voglio lasciare la città sguarnita mi fanno troppo cittadine e direi che possiamo finire il turno cazzo sto messo male a soldini si 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 ah non ci vai te ne stai lì mo eh mo te lo te lo fai te lo te fappi sull'isola mo cazzo mio hai voluto fare accordi con loro e mo armare lì bla 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 comuni lombardi lombardi comuni san vieto che succede? oggi i seguaci del profeta mohammed gioiscono poiché le armate musulmane si sono impossessate della città santa buon belluto sto contento ve lo do un po' di soldi ce l'ho via no una capitale bene annuncio le aranza comunque abbast i cazzi quindi saprò devo costruire qualcosina direi ah quale c'è sta questo o questo questo costa meno ups la sto a fa andiamo a fare un sacco di cose se crediamo costano un fischio e poi non mi danno soldi vediamo un po' qui che posso fare i granai non costano tanto poi c'è anche il banco del grano che è in gelo e costa solo 900 dai amut e due granai e banco del grano ah sono due turni forte c'è il banco del grano quattro turni cioè devi metterla due bancarelle e metterci un po' di grano sopra quattro turni qua un magazzino un granai sotterraneo due turni ma io non lo so veramente poi iniziamo a fare un po' di truppetta cittadina dalla sciacce che sta a fare il porto? si si bene bene ottimo ottimo andiamo a fare un po' di truppetta cittadina poi attacco adus che non è difesa manco per cazzo andiamo a sud ho detto orca quella è un'armata cazzo che pirla vabbè mi fermo qui mio sire e va bene dire di basta almeno con due e due ce li devo avere dai qui è anche 3 si si dai ma questa è da castello non si rigenera neanche mi se la congeto perfetto si muove i pirati qua sono bui cazzi fammene fanando tanto quelli due stonzi li lascio lì e io porto qua la flotta ah giusto fammone una cross e via no cazzo è al contrario radio Beota si per dove si mio signore lo ha più unito si per dove mio signore si si capitolio qui iniziavo a fare duppe si ma non ricordavo più vabbè come se la posso finire il turno qui sto con sto incazzo qui che dannai abbiamo detto qui il banco qui mi pare la foresta no si e qua il porto e va bene basta ottimo certo io mi sono abituato ai giochi dopo che per fare accordi commerciali bastava un click e invece qua devo mandare l'emissario e vabbè almeno è realistico io vorrei sapere come fanno i danesi invece due due anzi una città e un castello che mantenesse quell'esercito immondi tra l'altro stanno sempre in giro gli costrano uno sfacero de de quello era averroè il filosofo si non ricordo che l'ho studiato Napoli tipo prestigio costante ci mancherebbe sotto ultima dal porto dove ma dove qui no ah qui a l'undo ok eh ne fatti che ci abbiamo bonus di felicità ok della milizia se faccio questo oddio se no nel banco del grano non ce l'ha non ce l'ha niente questa città e vaffanculo poi ci fanno un'altra zuppettina e una d'arceti dai questi sono più scherzi e dopo partimo certo non c'è nessuno lo lascia accedendo cazzo il nobile ci volevo lasciare in città merda non dovete chiamare più dovete fare i figli cazzo qui sta a fare qui sta a fare il granaio lì sta a fare la cosa qui che gli ho detto che fa ah si giusto banco del grano capitale segretario poi me dan zordo un balistaglio ci faccio una concedia ci faccio una sega il macello come c'è cresce la demografica perfetto spero che il macello non sia di persone vabbè sofì levate dallo schermo che non vedo dai su ti coccolo dopo sofì dai è il gatto dove cazzo è nato l'omino ah ecco la buongiorno ah ma è lo stesso eh si non li distingue senza affesa però sono tutti uguali queste fazioni vabbè via un bel demotempo fai col turno abbandonare l'armata ah cazzo tra l'altro per passare di là mi servirà anche la nave eh eh fortuna ce l'ho ce n'ho una che mi avanza se mi fanno fuori l'esercito mentre sta entrando la nave eh eh le madonne si spregano infatti meglio mannaccere la nave la flotta pesante già sta lì poi perfetto perfetto dammi tre parole ho già fatto meno male di essere salvati una crociata un'altra volta bravo la sacra bibbia purificherà pure la pace ma quando la cristianità stessa vabbè c'è che c'è da dietro l'angolo da casa mia se mi affaccio il terrazzo la vedo nuova missione il papa era chiesto partecipa personalmente personalmente sì certo cioè sto praticamente al polo poenza mitata è 27 beh via so forte che c'entra tato tenuto capitano buono dunque allora noi ci prendiamo questo 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 tutti tranne le gruppe cittadine le gruppe cittadine avanzate le famo entrare subito la nave se non tocca cazzi perfetto eccoci qua andiamo andiamo ecco qua andiamo a scala dai c'hanno due mille da merda c'hanno pure le vangie di mercenari sta checca tu cazzo le piglia di soldi gli dava sto tozzo qualcuno ah qui ho finito mercato no cosa è più economico 3.000 cazzo mercato qui sto ancora a fa e via sono risollevato dalla crisi ah no qui devo fare qualcosa ah l'ho detto ma prima però faccio la bilanciata ok guarda per scopo manda unita dai arcedi via basta intanto Alberto Angela qui ok quelli già ce l'ho se ne ho fatto male perché stanno solo quelli va bene e va bene finiamo il turno che è il trentesimo devo anche sbrigare perché un esercito in assedio costa dopo però come la conquisto la capitale loro lì so veramente cazzi cioè come faccio la capitale è quella dove sto andando io mi sa si oh va ingrosciato eh bravo sciacqua i coglioni e cazzo non devo muovere quindi i uomini disertano ah 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 ingulato se fossi stato furbo assumeresti la nave mercenaria ma per fortuna non già arrivi ma si dai come come prestigio in calo chi osa a morte eeeh ho capito vince posso andare guardiamo un po' che famo iluviamente il forno di pesce vegetale cioè ci pensiamo pure non c'era cioè d'obbligo sto a fare tra un ospedale e un forno di pesce vegetale e subito il forno di pesce bene bene annunce di pazione oh meno male tu sei vai subito qua cazzo però mmm dove sta quell'anto è stata qua si ma c'è anche tu c'è anche il precettore di eso credulone meno uno a devozione vediamo un po' qua com'è che ve dico ma si dai non vuoi dai sulla faccia raga perdiamo tempo e basta ecco qua non solo tipo la poca roba tra l'anto cazzo se le so scopate le strutture fortuna in castello così posso addestare troppe oh bene finalmente è fatta quindi ai danesi gli rimane solo un territorio solo guarda qua cazzo cazzo però lì c'è solamente quindi solamente un nobile o magari è solo quello l'unico nobile capofazione devo farlo fuori devo farlo fuori assolutamente ho vinto datemi un assassino cazzo costa mille l'assassino non mi accordavo così tanto e vabbè e vabbè allora ti hai definito qua il turnaccio ah si ando sto costruendo per tutto non so magari dice purevamo la battaglia al castello dai hanno due mini su qualsiasi la perdevo stupio la prossima qua la faccio da qua dai cazzo devo ammazzarlo devo ammazzarlo va bene grazie dell'attenzione ciao a tutti ciao a tutti